Il burro, il burro, il maricchio è baloso. Il burro è rapito, per chi non si sa più di pubblico? Io torno, cominciamo a trottinare s'il vous plà. C'è perfetto! Sì, sì, sì. Perché non si può essere arrivato da sette ore. Se qualcuno può essere arrivato da 30 metri, se non si può essere giusto. Abba, abba, abba! Abba, abba! Abba, abba, abba! Abba, abba! Abba, abba, abba! Abba, abba! Abba, abba, abba! Abba, abba, abba! Abba, abba, abba! Abba, 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 abba! Abba! Abba, 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 abba! Capisci, qui può mercagesetzt? N Syemor. Incentiate. –ietan! Incentiate! Incentiate. Incentiate. Nanamus! Sì, amici!